Ciao, quante volte vi siete confrontate con le vostre compagne, i vostri compagni, i professori, la vostra famiglia o i vostri amici sull'intricato rapporto tra scienze, politica e cittadinanza? Buongiorno a tutte e tutti, sono Yuri Panicucci, sono un dottorando all'Università di Bologna e mi occupo del ruolo dei valori politici, morali e sociali all'interno delle scienze. In particolare mi occupo di quegli ambiti disciplinari che stanno al confine tra la salute pubblica e il clima, in particolar modo in riferimento al cambiamento climatico. Ora, la domanda che vi ho fatto all'inizio è chiaramente una domanda molto vaga e la risposta chiaramente sarà molte volte, nel senso che innumerevoli volte ci sarà capitato appunto di confrontarci con le nostre conoscenze, con noi stessi, in primo luogo, su quali siano, come districare l'intricato rapporto tra scienze, politica e cittadinanza. Ora, la domanda è vaga ma è al contempo fondamentale. È emerso il tema di questi difficili rapporti, per esempio nella gestione del Covid, ed emerge costantemente sul tema del cambiamento climatico. Un tema che, come sappiamo bene, è stato portato alla luce dagli scienziati da molte decadi ormai, rispetto al quale la politica ha fatto spesso troppo poco, e rispetto al quale la cittadinanza si è mossa sia come attivismo, sia anche alcune parti della cittadinanza hanno attivamente fatto lobbying o hanno cercato di avere influenza per rallentare il movimento politico teso a prendere pienamente atto del problema, del cambiamento climatico. Bene, quello che io vi propongo di fare, quello che ci propongo di fare tutte e tutti insieme, è di cercare di sviscerare un pochino i difficili e complicati modi in cui questi tre macroambiti dell'umanità, la politica, la cittadinanza e le scienze, vanno talvolta di pari passo, talvolta in opposizione, e soprattutto cercare di domandarci come si influenzano reciprocamente. Infatti, se da una parte nelle società democratiche, e non solo in realtà, la cittadinanza influenza direttamente o deve influenzare o ha un ruolo attivo nel determinare le politiche prese dalla collettività, d'altro canto le politiche cercano di essere o dovrebbero essere scientificamente informate, cioè appoggiarsi su basi scientifiche perlomeno accettate in quel dato momento storico. Al contempo, si può anche pensare, e molti e molti studiosi sociali e filosofi della scienza lo stanno dicendo da molti anni, dobbiamo pensare al fatto che le scienze stesse non sono impermeabili da valori morali, politici e sociali. E questo non ci lascia necessariamente a un relativismo rispetto al quale è molto difficile distingue tra scienza e pseudoscienza. No, tutt'altro. C'è da fare una riflessione su in che cosa consiste effettivamente l'oggettività scientifica, la razionalità scientifica, e vedere che essa in fondo non è tanto data dal suo cercare di essere fattuale, legata cioè a una descrizione accurata della realtà, cosa che essa cerca di fare. Ma l'oggettività scientifica è data piuttosto dalla qualità del dibattito, dalla capacità degli studiosi e delle studiosi di muoversi critiche reciproche, dalla capacità di prendere atto di scoperte in altri ambiti disciplinari, e anche in certi modi, in certi momenti storici, prendere atto di istanze che vengono portate avanti dall'attivismo, dalla cittadinanza in quanto tale. Ecco, tutto questo complesso ginepraio di rapporti tra scienze, politica e cittadinanza è quello che vi invito e ci invito a discutere tutti e tutti insieme al vostro liceo il prossimo 15 novembre. Quindi quello che io cercherò di fare è di fare essenzialmente da facilitatore, mediatore all'interno di una conversazione che spero sia il più aperta possibile su questi temi, per cercare di sviluppare da una parte una comprensione critica di che cosa siano le scienze e quale sia il loro ruolo nelle politiche pubbliche. Dall'altra una comprensione di che cosa sia il pensiero critico da parte della cittadinanza che è chiamata a determinare tali politiche e prendere atto delle conoscenze scientifiche. Quindi rinnovo l'invito da parte del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna e dell'Associazione Mela Insana a partecipare all'incontro a novembre. Buona estate e grazie a tutti e a tutte.